La bambina è morta nel 1959 Perché c'è stato un urlo di bambina? La bambina è morta nel fiume? O se no stavano recitando qualcosa a cambiare Hanno recitato allora Cioè allora stavano facendo come Hanno fatto Facevano come Sì è perché allora E lo spirito Perché lo spirito della bambina Allora è rimasto E vuol dire che è morta da bambina Esatto Ma poi non siamo neanche sicuri Che sia una bambina Perché ce l'ha solo detto prima Togli volume e fallo Qualcosa di simile Fallo Difestati dai Facci qualcosa Da dici che sei qui Oddio I piccioni I piccioni hanno molta tensione Da quando i piccioni fanno sto rumore Sempre sempre Però strano che lo fanno proprio a vore Prendiamolo come un rumore Ma come si è sentito rumore da dentro E non sto scherzando Dobbiamo No non dobbiamo Pomeriggio È successo il pomeriggio? Vogliamo capire di più cosa è successo alla bambina Sei morta il pomeriggio? Passi dietro? Sì Il titolo delle disatte Madonna Cambiare Ha detto ancora cambiare L'ha ripetuto due volte Non è che vuol dire che Cambiare il posto Della bambina Che non è morta nel lago Non è morta qui Che in realtà è stata sepolta Perché contenere è buono Non è stata fuori Non è morta Non l'hanno messa nel fiume Quindi sarà morta Oh Ho sentito qualcosa Non è Questa non era rumore sopra No è venuta da sotto Ma guarda sono due O chi è il vecchio Come è stato detto Ha ucciso la bambina E l'ha messa dentro Adesso Troppe ipotesi Che però ci sono molte parole Senza Non lo so C'è stato un po' Shhh Fiume No 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 Ripeto la domanda Allora secondo me C'è qualcosa che non fonda La bambina È morta nel fiume Io ho molto incertezza Non è mai stato buono Non c'entra magari Non è che è morta È affogata E non è poi l'hanno torta Dal fiume Movimento Oh 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 Movimento Muoviti Perché i piccioni Non parlano Avete presente Che adesso i ciclali Fanno più rumore Adesso Voglio Ha voglia Di fare movimento Comprendere Comprendere Vai Muoviti Allora muoviti Fate vedere Fate sentire più che l'altro Perché vedere Non credo può Mi ricordo molto Possiamo Noi non possiamo vederti Però possiamo sentirti Oh 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 Grazie Grazie Brava Almeno Almeno ti hai mai sentito Lei È da dentro Sì No Sai che sembra Tipo rumore Spirito Compari Sai che sembra più rumore Che busta contro il legno Eh come Mi fai questo rumore Eh Facciamo No Alba Non dirlo Ho già capito cosa vuoi Fatti vedere Sulla finestra Eh infatti Lo sapevo Eh ok O almeno fai Circa Perché non ti fai vedere Distruggere Oh oh Chi vuoi distruggere Forse noi No 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 Ma forse la casa No sto passando l'auto Adesso è finito il video Ma Eh Vi direte Come ma Non è Cioè è finito così praticamente Vi spiego perché è finito così Allora vi spiego Allora Ci hanno detto È arrivata una macchina E è successo questo Che vi carico adesso Non si può andare di là Ah Quindi dobbiamo tornare Ma cos'è Praticamente Ci hanno detto Che è una proprietà privata Di andare via Che noi siamo andati via E è finita così Quindi Siamo ancora sul filo Cioè Siamo in un piede Di aver scoperto Cosa è successo E nell'altro piede E ancora Non abbiamo capito un cazzo Dobbiamo tornare Tranquilli raga Torneremo Non abbiamo capito un cazzo